Salve a tutti, qua da Fabio, oggi c'è un nuovo video unboxing. Per iniziare questo video unboxing volevo sponsorare un canale di youtube che si chiama Eros Rasatua Tradizionale. Lascio il link in descrizione. Lascio il link in descrizione, anche la pagina Facebook ne ho effetti perciò che lascio il link in descrizione. Lascio il mio link del sito di Rasavu di ELEF dove sono affiliato e lascio il link in descrizione anche del mio secondo canale di youtube, lo parlo dell'orologio e lascio il link in descrizione anche di un po' più figlio di TikTok di Dovart 3D che fa delle statue con la stampa in 3D, ottime e le dipende molto bene. Oggi siamo qua ad un video unboxing che ho comprato con un set. Provate a indovinare voi prima che lo spacchetto. posso dire solo una cosa intanto che questo questa marca di sapone non l'ho mai non l'ho mai avuta neanche in prova. Era la prima volta. Non so quando ci sarà il video prova perché come sapete l'avete visto l'altro vien d'unboxing prima voglio provare quella roba lì che mi hanno regalato per provarla. Intanto mettiamo a posto il coltello prima che ci facciamo male. cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Cosa ci sarà? E' già. E' già. fresco di sitia del pantarei. Allora bergamotto, limone, tè verde, basilico, pazzulli, indonesia indiana, muschio bianco. Pantarei. Questa macchina qua è la prima volta che la figlio. madora. Spettacolare, spettacolare. Pantarei. E' ovviamente dopo barba. Non poter non prendere dopo barba la pantarei, aspetta. qua c'è. Qua c'è. 100 ml. Spettacolare, spettacolare. Spettacolare. Vetro, eh. aspetta. Ma che set, mamma mia. Questo sarà spettacolare. Spettacolare. Allora, c'è un motivo perché l'ho preso. Lo volevo prendere. Allora ho messo la lista a preferire su Goodfellas. Praticamente per novembre. Che ho altra roba da prendere. Però Ergos mi ha detto, ti vuoi negliogiorarlo subito o almeno questo perché se quando finisce poi non lo farà più. Quindi lo... ieri l'ho ricaricata posta bene e ho fatto il piccolo danno. E' vuoto. Ok. Se il video vi è piaciuto iscriviti al canale, attivate la campione delle notifiche e commentate e lasciate l'ag. Non so quando arriverà il video prova, ma... Dalla profumazione è già top. È già top. Non posso... Non... Non ho neanche parole io a... a descrivere. Ecco. Al prossimo video. Ciao. Ciao.